Istituzione dell'ente di governo dell'ambito del Molise definito EGAM per la gestione delle risorse idriche della nostra Regione. E' passata oggi la legge in Consiglio regionale, dopo due mesi di discussioni e giuste polemiche. Dieci voti favorevoli, nove contrari e un astenuto. Non vogliamo fare un'analisi politica di come sono andate le cose e se vi è ancora una maggioranza di governo. Non vogliamo affrontare l'argomento di quali e di chi sono gli interessi di un tale discusso voto che è culminato con un'approvazione a photo finish molto risicata. Ci poniamo dalla parte del cittadino e la domanda che egli rivolge alle istituzioni è la seguente. Cosa si rischia da oggi con l'avere approvato questa legge? Non è ancora chiaro se le nostre risorse idriche sono a rischio privatizzazione. Ma l'intervista al consigliere regionale Massimiliano Scarabeo, rilasciata questa mattina, che non ha poi successivamente votato la legge, è eloquente per far comprendere quali sono i rischi da oggi in poi sulla questione EGAM. Credo che sia un provvedimento che sinceramente è nato male. Ci siamo ritrovati con un'ordinanza del TAR che dava la competenza non all'esecutivo regionale, ma all'intero consesso. Quindi al Consiglio regionale stesso. Un dispositivo legislativo che prevede addirittura tre organi, tre ragioni sociali, tutto sommato. A monte la gestione affidata a Moliseacque e a valle ad una società mista che dovrebbe, perché il condizionale è d'obbligo, essere gestita dalla stessa Moliseacque e dai comuni molisani. Addirittura poi la gestione per quanto riguarda l'adduzione e le condutture affidata a una società terza. La perplessità che abbiamo sollevato io ed altri colleghi, sia di maggioranza che di minoranza, è quella di innanzitutto capire il perché di questa esigenza di dover creare per forza di cose altre tre strutture, quindi con relativi aumenti di costi. Siamo già intervenuti nel dibattito affrontato nelle scorse sedute, cercando di ridimensionare anche quello che era il compenso da parte del direttivo e del direttore generale. Addirittura l'abbiamo anche azzerato. Però la perplessità resta nell'esigenza e nell'utilità di dover mantenere questi tre carrozzoni, con il rischio anche che a valle possa esserci una società privata. Sappiamo benissimo che le società possono essere considerate anche società di diritto pubblico, quelle partecipate da un capitale del 51% e un capitale minoritario composto anche da privati. È una perplessità che portiamo avanti, ritengo utile e necessario da parte dell'esecutivo regionale, da parte del Presidente della Giunta e dell'assessore delegato a ritirare questa proposta legislativa. Peccato, a distanza di poche ore si è aperto il baratro con l'approvazione della legge istitutiva del Legam e il rischio ben enunciato e chiarito dal Consigliere Scarabeo che da oggi le risorse idriche molisane sono a rischio privatizzazione.